Francesco Manca, segretario cittadino del PD di Nuoro. Stasera alle 18.30 nella sala conferenza dell'Hotel Grillo si terrà il convegno organizzato dal PD cittadino dal titolo Rete Urbana di Nuoro Unirsi per Crescere. Quali gli obiettivi di questo importante appuntamento che sarà trasmesso in diretta a Facebook, sulla nostra pagina Facebook di Telesardegna? Sì, è un evento che serve per promuovere una possibilità che hanno alcuni comuni sardi, una possibilità prevista dalla legge 2 del 2016, che è quella della Rete Urbana. Cioè le città medie, quelle con più di 30.000 abitanti, possono mettersi insieme ad altri comuni per fare una sorta di unione dei comuni per lo svolgimento in forma associata di alcuni servizi. La possibilità di creare una sinergia tra comuni medio-piccoli per poter formare una massa critica e poter avere intanto più peso in regione da un punto di vista della rappresentanza della popolazione, ma poi proprio per esercitare congiuntamente alcune funzioni che sono proprie dei comuni. Faccio un esempio, può essere per esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tutti quei servizi tipicamente comunali, quindi non provinciali, non competenze provinciali, ma tutti quei servizi tipicamente comunali che i comuni oggi riescono ad esercitare con tanta fatica, potrebbero essere messi insieme per un esercizio congiunto. Questa è una possibilità che dà la legge regionale 2 del 2016, approvata dal Consiglio regionale. Ancora oggi la città di Nuoro non si è espressa da questo punto di vista, secondo me colpevolmente, perché è una grande opportunità per ridurre i costi a beneficio di una popolazione tutta intorno alla città, che potrebbe essere Nuoro, Liena, Orgosolo, Mamoiada, Dorgali, mettere insieme dei servizi per poter crescere insieme, ridurre dei costi e fare esercitare anche alla città di Nuoro quel ruolo guida di un territorio che oggi sta inevitabilmente perdendo.